Buongiorno, parliamo della legge di Lavoisier. Cosa diceva Lavoisier? Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Allora io oggi voglio inculcarvi un pensiero per la prima volta. Se tutto questo valesse non solo per il mondo della fisica, ma anche per ciò che esula dalla fisica, per quanto riguarda una concezione diversa del modo che è stato fino ad oggi di vedere la concezione di Dio, ovvero mettiamo che questo Dio sia formato da tutte le parti di energia degli esseri viventi di tutto l'universo. Questo ci permetterebbe di tornare a una legge fisica di Lavoisier anche da questo punto di vista, quindi non è né eretico né scandaloso. In questo caso il percorso sarebbe di essere tutti quanti, comprese tutte le specie viventi, anche quelli animali, con sostanziali, con questa energia che abbiamo chiamato finora Dio, da dove proveniamo e da qui ritorneremo dopo la nostra morte, eliminando un giudizio disinico ed una creazione discriminatoria e vedrete perché. Ma per far questo c'è bisogno di abbattere prima il Dio fin qui concepito. È possibile fare una cosa del genere? È possibile dimostrare l'inesistenza dell'inesistente? Se questo Dio concepito fino adesso in questa maniera non è mai esistita, sarebbe una cosa assurda dimostrare l'inesistenza dell'inesistente. Proviamoci con una semplice formula matematica. Immaginiamo che un uomo a 30 anni faccia un figlio, quando ha 40 anni, questo figlio ne ha 10, occupa un quarto del suo stato esistenziale. Bene, noi sappiamo che 13 miliardi e 700 milioni di anni fa esplose il Big Ben da un piccolissimo punto di luce, unitesimale. Ma prima dell'esplosione di questo Big Ben, questo Dio è sempre esistito, in quanto mai stato creato, quindi esisteva da un tempo infinito. Proviamo ad applicare lo stesso meccanismo che abbiamo fatto prima con un uomo che crea un figlio. Vogliamo vedere quanto tempo occupa il nostro percorso di creazione, quindi 13,7 miliardi di anni, rispetto al tempo esistenziale di Dio. Quindi dovrei dividere 13,7 miliardi di anni, diviso i 13,7 miliardi di anni in cui Dio è esistito dal punto C della creazione dove esplode il Big Ben ad oggi, più infinito, ovvero il suo tempo indietro prima di questo punto C della creazione. Sapete qual è il risultato di questa semplice formula matematica? È 0,0000, una serie infiniti di zeri prima di arrivare a un punto C della creazione che rimane solo virtuale e non più fattibile da un punto di vista della matematica, ovvero sia con questa semplice formula matematica a noi annulliamo un Dio creatore. E quindi da questo punto di vista ritorniamo a quello che vi ho detto prima, una legge di dato eserdo, che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma anche per ciò che concerne l'energia che muove i corpi di tutti gli esseri viventi. Ma non basta questo, in questo momento io vi dico, chiunque di voi è l'adoratore di qualsiasi religione che concepisce il Dio che ha dato luogo a una creazione, è l'adoratore di un Dio malvagio, l'adoratore del diavolo. Perché? Noi sappiamo che nella Bibbia, anzi pochi sanno che nella Bibbia esiste una legge che regolamenta la schiavizzazione dell'uomo, si trova nel libro dell'Esodo al capitolo 21, questa legge Dio la dà a Mosè per promulgarla a tutto il popolo e dice che il padrone che uccide abbassonato il proprio schiavo non è reo colpevole di diritto perché lo schiavo è sua proprietà e quindi lo invita in chiesa. E' possibile, è concepibile una cosa del genere, siete gli adoratori di un Dio malvagio che legittima e sacerba la schiavizzazione dell'uomo fino a legittimarla in uccisione da parte del padrone in quanto lo regrega a ruolo di pil denaro, invece di abbiorare la schiavizzazione, di eliminarla, di comandare la sua abolizione? Ma usa anche la carota perché dice che se lo schiavo sposa una schiava del padrone e dà con essa dei figli, dopo sette anni lo schiavo è libero, ma la schiava e i suoi figli rimangono proprietà del padrone. Nei dieci comandamenti dice quelli originali, non quelli che voi conoscete perché la chiesa li ha cambiati, date un giorno di riposo allo schiavo così come agli animali. Quindi io torno a dirvi, chiunque è un adoratore di questo Dio sarebbe un adoratore di un Dio malvagio. Ma vediamo cosa ci dice a questo punto Gesù di questo Dio. Nel Vangelo di Giuda, finito tritaturre a dicembre del 2006, mentre Gesù si trova con i suoi apostoli durante una scena, questi spezzando il prane pregano il loro Dio, a cui lo stanno offrendo, praticando il culto dell'Eucaristia, e Gesù si prende beffa di loro, li ride. Davanti alla loro ira e alla loro sorpresa, Gesù gli dice, vi sto ridendo perché voi siete gli adoratori di un Dio malvagio, responsabile di una creazione che è discriminante verso l'uomo, che lo relega nell'ignoranza. È possibile una cosa del genere. Questo è il Vangelo di Giuda, ritrovato nel 1947 nelle grotte di Kimber Kumran, quindi uno dei testi gnostici più antichi che conosciamo, dove sono state fatte assolutamente manipolazioni da parte dei padri della Chiesa. Ma nel Vangelo di Tommaso, sempre ritrovato nel 1947 a Kimber Kumran, Gesù dice, noi proveniamo dal punto dove si formò la luce e tutto ebbe inizio, quasi presagendo con duemila anni di anticipo all'esplosione del Big Ben e lì ritorneremo dopo la nostra morte. Come vedete è qualcosa di quasi aberrante, è un ritorno a quello che vi ho detto prima, la legge di La Poesiera, come se ci fosse un Dio trascendente, e a questo credeva l'ognosticismo, questa cultura religiosa, un Dio trascendente da cui proveniamo e a cui torneremo dopo la nostra morte, tant'è che in questi due Vangeli non si parla né di resurrezione né di crocifissione da parte di Gesù, perché era importante dimostrare che dopo la nostra morte noi tornavamo al vero Dio, quello trascendente che è formato con sostanziale, con tutta l'energia di tutti gli esseri viventi. Pensate come cambierebbe per un attimo il vostro percorso di vita davanti a una prospettiva del genere, voi stessi diventate Dio. Ma andiamo invece da una prospettiva del genere, voi stessi diventate Dio. Ma andiamo invece da un altro punto di vista, quello concettuale. Questo Dio esiste da un tempo infinito prima della creazione. Perché mai in un determinato momento X, dopo che è sempre esistito per questo tempo infinito, in uno stato di perfezione, quindi di benessere che dovrebbe rivolgere verso se stesso, dà luogo a una creazione? Le religioni ci dicono Dio crea l'uomo per dargli amore e ricevere gratitudine da Lui. Ma un'entità che è perfetta perché dovrebbe cadere in estrinsegazioni insegazioni emozionali, quale dare amore e ricevere gratitudine, che lo porterebbero ineluttabilmente ad un passaggio verso l'imperfezione, perché relazioni emozionali che fanno parte dei bisogni, dei bisogni dell'uomo, signori. Perché l'uomo crea dei figli per dargli amore, ricevere gratitudine per non rimanere solo in vecchiaia, per sopperire ai suoi bisogni e a sue carenze affettive. Ma un Dio non può cadere in questi bisogni e nelle mancanze estrettamente correlate ai bisogni. Cadrebbe ineluttabilmente nell'imperfezione e questo sarebbe una cosa assurda per un'entità perfetta. Ma dopo che comunque dà luogo a una creazione, cosa compare sulla Terra? Per 400 miliardi di anni compaiono i dinosauri. Che cosa è stato, signori? Un incidente di percorso della creazione. Questo Dio crea i dinosauri, dopodiché vede che non gli danno amore e riceve gratitudine a loro, forse perché questi tirannosauri, pazzi scatenati, l'avranno cercato di azzannarlo, per cui decide con un meteorite di distruggerli e far rinascere da una nuova linea evolutiva dai mammiferi, che parte dai mammiferi, dal luogo a una nuova creazione che arriva fino all'uomo. Sarebbe stato un incidente di creare il corso e un'ennesima dimostrazione dell'imperfezione del nostro Dio. continuate a seguire il programma sulla seconda parte di questo percorso di dischetti.